Non ci sarebbe cosa peggiore per la diffusione delle auto che si guidano da sole di un ammasso incoerente di regole in conflitto tra loro. L'allarme è quello lanciato da Google, azienda che sta lavorando alla macchina senza pilota, la sede è quella di una commissione del Senato di Washington. Sono già 55 in 23 stati diversi le proposte di legge a riguardo, ricorda Mountain View, che chiede una legislazione unitaria per tutto il territorio degli Stati Uniti, ma gli interrogativi riguardo alla sicurezza sono ancora tanti, specialmente dopo che alcuni giorni fa una Google Car si è scontrata con un autobus.